Gentile Presidente Bombassei, grazie per l'invito a lei e a tutti i membri che sono partecipi della Fondazione Italia-Cina. Cari soci della Fondazione, illustri amici cinesi, in particolare mi rivolgo al nuovo ambasciatore al quale rivolgo un particolare benvenuto, spero si troverà bene qui in Italia. Mi rivolgo a tutte le signore e a tutti i signori e alla delegazione di Xi'An che ci ha illustrato un po' tutte le caratteristiche rendendoci anche un po' invidiosi per quanto stanno facendo nel campo delle più avanzate tecnologie. Io sono molto lieto di poter partecipare a questo incontro e devo dire che sono anche debitore dell'iniziativa della presentazione del rapporto annuale, alla quale ho dato anche un piccolo modestissimo contributo, ma sono debitore per il fatto che è un rapporto che costituisce un prezioso riferimento per tutti, anche i decisori politici, per la comunità imprenditoriale, per la comunità accademica, diciamo per tutti coloro che vogliono avvicinarsi e conoscere meglio una realtà come quella cinese, una realtà molto articolata, molto complessa. Tra i miei amori in letteratura c'è uno scrittore abruzzese, Ennio Flaiano, molto noto per le sue caustiche, i suoi motti molto caustici, per i suoi euforismi molto sapidi. In questo caso però non mi trovo d'accordo quando afferma che capire la Cina non è soltanto impossibile ma inutile. In realtà io ritengo che capire la Cina non solo è possibile, ma direi è doveroso, lo ha in particolare perché soprattutto in questa fase storica la Cina è parte integrante delle dinamiche quotidiane che ci circondano ed è destinata ad esserlo sempre di più. L'Italia vede nella Cina un interlocutore ormai a pieno titolo quale è Global Player ed è determinata a coltivare il fruttuoso percorso che è stato intrapreso negli ultimi anni e che quest'anno, 2019, scandisce un passaggio particolarmente significativo perché quest'anno passerà sicuramente alla storia dei rapporti tra Italia e Cina. A marzo è stato ricordato, abbiamo accolto il presidente cinese Xi Jinping, la prima volta in Italia di un presidente cinese dal 2009. Questo è stato un appuntamento che ha consentito di rafforzare il nostro partenariato bilaterale anche in vista delle celebrazioni ormai prossime. L'anno prossimo celebreremo il cinquantenario dei nostri rapporti diplomatici. La visita del presidente Xi Jinping nel nostro Paese è stata una tappa che ha consentito di mettere in moto quel processo volto a fornire risposte pragmatiche alle crescenti richieste provenienti dalle nostre società civili e imprenditoriali a favore di rapporti bilaterali sempre più intensi, sempre più profiqui. Nel contesto della visita del presidente Xi Jinping sono stati poi organizzati, voglio ricordarlo perché è stato un grande sforzo corale, collettivo, che ha coinvolto centinaia di rappresentanti italiani e cinesi, un business forum, un forum culturale e per la prima volta un forum dedicato alla collaborazione economica nei Paesi terzi. Qui ringrazio il viceministro Di Stefano qui presente perché ha avuto un grande ruolo nel portare a termine queste iniziative. Lo scambio di idee, di contatti, di buone prassi tra i partecipanti è stato molto intenso e ha posto le basi per nuove occasioni di cooperazione. Peraltro ci sono alcuni dati significativi che si sono materializzati nel corso di questo scambio che sono di per sé eloquenti, di per sé stessi eloquenti. Sono stati sottoscritti 29 intese, 19 istituzionali e 10 commerciali che hanno spaziato dai trasporti all'energia, alla salute, alla siderurgia. Abbiamo inoltre adottato un comunicato congiunto sul rafforzamento del partenariato strategico globale in cui abbiamo ribadito il comune impegno a favore del multilateralismo e del rafforzamento dei rapporti bilaterali in particolare a contenuto economico ma anche culturale e scientifico su bassi di reciprocità. L'aspettativa italiana, io l'ho espressa chiaramente dal Presidente Xi Jinping, è che queste intese contribuiscano a intensificare e anche a riequilibrare la nostra collaborazione economica e commerciale con la Cina. Nel settore agroalimentare in particolare abbiamo sottoscritto alcuni protocolli che avranno sicuramente ricadute positive per le nostre aziende di settore che non avevano o comunque avevano accesso con grandi difficoltà al mercato cinese. Allo stesso modo l'accordo di collaborazione sul commercio elettronico, lo ritengo particolarmente significativo, sono convinto che favorirà lo sviluppo dei rapporti bilaterali in un ambito di particolare interesse per l'espansione delle piccole e medie imprese italiane e per la promozione del Made in Italy in Cina. Di notevole importanza considero anche l'accordo che è stato raggiunto sulle doppie imposizioni fiscali che fornirà un sostegno fondamentale per la nostra comunità d'affari che vive in Cina o che interagisce in modo sistematico, regolare con le controparti cinesi. Una menzione poi a parte merita l'ormai celebre, mi permetto di definirlo, memorando un bilaterale sulla collaborazione nell'ambito della Belt and Road Initiative. L'Italia ha concepito questa intesa come uno strumento che fornisce un quadro di riferimento per lo sviluppo della connettività, basato su principi e su standard consolidati a livello europeo. Da parte nostra abbiamo chiesto e ottenuto l'inserimento, l'adozione di un linguaggio all'interno del documento che rispecchiasse integralmente i principi del mercato unico e della strategia Unione Europea-Cina, quali principi che sono fondati su trasparenza, inclusività, level playing field, sostenibilità da tutti i punti di vista, da quella sociale a quella fiscale a quella ambientale, rispetto delle regole di mercato e anche dell'open procurement. Affinché questa iniziativa della Belt and Road sia all'altezza delle aspettative riteniamo necessario che si sviluppi in un quadro condiviso di valori, principi, regole che forniscano quindi un chiaro perimetro di azione e che possano anche favorire poi un percorso più lineare e trasparente, rapporti di collaborazione più lineare e trasparenti a livello di singole imprese. Solo le regole di mercato, applicate in modo aperto, in modo non discriminatorio, possono assicurare la più efficiente allocazione delle risorse e la realizzazione di progetti all'altezza delle nostre ambizioni. Per raggiungere questo obiettivo bisogna poi coltivare un multilateralismo efficace e affidarsi alle Nazioni Unite. Dobbiamo contrastare le spinte al protezionismo. Ho sempre detto che il protezionismo non ci porta da nessuna parte perché laddove ci sono iniziative protezionistiche ci saranno reazioni contro protezionistiche evidentemente una spirale da cui bisogna assolutamente uscire. E come farlo? Dobbiamo, come è stato anche mi pare di aver compreso dalla posizione, dal suggerimento del Presidente Bombastè, bisogna lavorare per riformare le regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio che va opportunamente riformata. Ormai sono regole un po' vecchiotte e sicuramente non sono idonee ad affrontare le nuove sfide. Con questo spirito ho anche affrontato lo scorso aprile il mio viaggio, la visita a Pechino per partecipare al secondo Belt and Road Forum for International Cooperation che era stato promosso dallo stesso Presidente cinese. È stata una grande proficua occasione. Sono stato al corso del forum, ho potuto incontrare altri 37 tra capi di Stato e di Governo e abbiamo condiviso una chiara consapevolezza sui benefici che possono derivare dal miglioramento della connettività euro-asiatica in termini di crescita e di sviluppo sostenibile. Il nostro Paese attribuisce molta importanza alla connettività tra Asia e Europa. Ne sono testimonianza la decisione di dedicare a questo tema il vertice ASEM proprio qui a Milano nell'ormai distante 2014, così come la nostra adesione all'Asian Infrastructure Investment Bank in qualità di socio fondatore. Per la sua stessa collocazione geografica e per la naturale vocazione all'export il nostro Paese non può che guardare con estremo interesse a tutte quelle iniziative e appunto tra queste rientra senz'altro la Belt and Road Initiative in grado di avvicinare e collegare in modo più stretto i due continenti. E se mi permettete di riassumere identificherei nell'iniziativa di Nuova Via della Seta tre principali ambiti di opportunità per l'Italia e per le nostre aziende. Innanzitutto un primo ambito, la potenziale crescita delle nostre infrastrutture di trasporto a partire dai nostri porti, quali i terminali delle rotte marittime che connettono l'Europa e l'Asia, perfettamente integrate nei corridoi delle reti trans europee. La Via della Seta marittima offre infatti importanti prospettive di crescita all'intera regione del Mediterraneo e quindi anche su questo punto raccolgo pienamente e condivido i suggerimenti che mi sono stati anticipati. Basti considerare che il 90% dei traffici commerciali tra Asia e Europa viene ancora via mare e che anche grazie al raddoppio del canale di Suez stiamo assistendo ad un costante aumento della tratta mediterranea rispetto a quella che interessa i porti del nord Europa. In secondo luogo dobbiamo facilitare la partecipazione delle nostre imprese ai progetti di connettività nel contesto della Belt and Road Initiative. Quindi mi riferisco alle infrastrutture, all'energia, alle costruzioni, ad altri settori in cui le aziende italiane sono leader mondiali e possono offrire un prezioso contributo alla realizzazione di opere strategiche, di opere sostenibili. Il bisogno di queste opere per sfruttare a pieno il potenziale di crescita economica e migliorare il benessere dei cittadini è ormai ampiamente riconosciuto. Secondo l'Asian Development Bank il fabbisogno infrastrutturale della regione Asia-Pacifico necessario ad assicurare gli attuali tassi di crescita ammonterebbe a circa 1,7 pensate trilioni di dollari fino all'anno 2030. E poi, terzo e ultimo aspetto, in qualità di secondo paese manifatturiero d'Europa ci aspettiamo di ottenere per i nostri esportatori un maggiore accesso al mercato cinese e a quelli degli altri paesi lungo la via della seta. Confidiamo infatti che in parallelo con la costruzione delle infrastrutture fisiche vengano anche ridotte le barriere commerciali e più in generale venga migliorato l'ambiente in cui le nostre aziende si ritrovano a operare. Vorrei poi aggiungere che la connettività non può essere intesa in termini come alcuni invece accedono a fare, in termini esclusivamente fisici e commerciali. È una prospettiva che garantisce un qualche successo ma non assicura l'ambizione a cui miriamo. Nel corso della sua visita di Stato nel 2017 lo stesso Presidente della Repubblica Mattarella ha coniato nell'ambito di una lexio magistralis tenuta alla Food and University di Shanghai l'espressione via della seta della conoscenza. Ecco, l'istruzione, la cultura, la ricerca, il turismo, la mobilità di studenti, di ricercatori, gli accordi, gli scambi tra centri di ricerca tra università contribuiscono senza dubbio a infittire quella rete di reciproche conoscenze che fa ad avere proprio acceleratore per lo sviluppo della connettività fisica e per il miglioramento di quella istituzionale creando le più solide fondamenta per una cooperazione che sia realmente duratura. A tale scopo abbiamo avviato iniziative ambiziose, innovative in materia di collaborazione culturale, turistica di scambi people to people. Penso ad esempio ai gemellaggi che sono stati lanciati tra siti UNESCO dei due paesi. Insieme conteniamo il più ampio patrimonio UNESCO, che ci sia al mondo. Siamo rispettivamente primo e secondo paese per quanto riguarda il numero di siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale. Quindi qui ci sono tanti accordi, sono stati sottoscritti tra università dei due paesi per progetti di ricerca congiunti e scambi accademici. Il 2020 sarà un anno molto importante da questo punto di vista. Come è stato ricordato dal presidente Bomba 6, il 2020 sarà l'anno della cultura e del turismo Italia e Cina. È una grande opportunità che dobbiamo assolutamente raccogliere. Per tutti gli attori del sistema Italia sarà un imperativo morale, etico, culturale, economico sfruttare questa preziosa occasione, sfruttarla in tutte le sue potenzialità. Ma prima dell'anno del turismo dell'anno prossimo ci attende un appuntamento non meno significativo, non meno importante. A novembre si terrà la seconda edizione della China International Import Expo di Shanghai. È un'esposizione di portata internazionale di cui l'Italia quest'anno sarà paese partner. Ecco, non possiamo perdere questa ulteriore opportunità per dimostrare che tutti noi, governo, aziende, siamo determinati a fare di più e ad assicurare un vero e proprio salto di qualità nelle relazioni economiche commerciali con Pechino. Come ho avuto modo di rappresentare al Presidente Xi Jinping in occasione dei nostri colloqui bilaterali dello scorso aprile al Primo Ministro, ci aspettiamo che alla vitalità del nostro rapporto bilaterale corrispondano anche un più ampio e bilanciato interscambio commerciale un maggior flusso di investimenti anche verso l'Italia. Ciò senza arretrare di un passo sui nostri principi e valori e senza mai dimenticare la nostra fedeltà al legame transatlantico e la nostra appartenenza all'Unione Europea che rimane la nostra casa perché questi restano i nostri punti di riferimento principali. Già oggi i prodotti italiani sono sempre più presenti sul mercato cinese. La domanda crescente di beni e di qualità da parte della sempre più vasta classe media, spinta anche da un vasto ambizioso processo di riforme a cui guardiamo con grande fiducia, rappresenta un'opportunità che l'Italia deve essere in grado di sfruttare a pieno. Ma dobbiamo fare in fretta per occupare questi spazi di mercato, anzi siamo un po' in ritardo come ci è stato anche ricordato rispetto ad alcuni Paesi, Stati membri dell'Unione Europea. Allo stato attuale la Cina è il nostro settimo parte commerciale e rappresenta il nono mercato di destinazione delle nostre esportazioni. Nel 2018 l'interscambio ha segnato una cifra significativa 44 miliardi di euro con un incremento di circa il 5%. Nello stesso anno le nuove aziende italiane registrate in Cina sono state 239 con un aumento del 28% rispetto all'anno precedente. Gli investimenti in diretti cinesi in Italia montano a 1,3 miliardi in euro a fronte dei 9,6 miliardi investiti dall'Italia in Cina. Sono risultati incoraggianti ma non possono essere certo considerati sufficienti. I mesi a venire saranno cruciali per verificare che i concreti progressi nelle relazioni economiche con Pechino siano coerenti con le nostre ambizioni. Il lavoro che stiamo portando avanti a livello di governo per affiancare con sempre maggior forza e determinazione i nostri imprenditori nelle loro iniziative di proiezione internazionale è un modo molto tangibile per tradurre in realtà la nostra visione della Cina quale inelludibile parte economica e commerciale nel contesto globale. Confido dunque in una presenza italiana sempre più significativa sul mercato cinese e al contempo, ripeto, siamo anche disponibili e interessati ad accogliere ipotesi di collaborazione con imprese cinesi in Italia. Mi avvio a concludere. Riteniamo fondamentale la nostra collaborazione con Pechino. Vogliamo che si sviluppi in un quadro strategico muovendoci soprattutto in certi settori in modo sistemico. A nulla servirebbe affidarsi a fughe in avanti, non ponderate, che finirebbero per ottenere risultati tali da distoglierci dei nostri legittimi obiettivi con il rischio addirittura di configurarsi come interventi dai dubbi benefici. L'evidente necessità di fare rete, precondizione ineliminabile per muoversi come un sistema, è molto presente nella sensibilità del governo da me presieduto. Lo dimostra anche la formazione di tavoli di coordinamento su questa affascinante sfida, così come su altre materie di diretto interesse a sostegno del processo di internazionalizzazione del nostro sistema economico. Al tempo stesso l'esistenza di una specifica normativa volta a scrutinare il perimetro di intervento degli investimenti esteri nel nostro Paese, provenienti dal di fuori dell'Europa, conferma l'impostazione di fondo della nostra linea di azione politica che, lungi dal voler riproporre un ormai inattuale e superato dirigismo, intende comunque contribuire a individuare la giusta direzione che a nostro avviso deve informare l'auspicato e rinnovato slancio del nostro importante sistema economico. Grazie per l'attenzione.